Cosa è successo? Noi non lo sappiamo cos'è successo. È passato quasi un anno e io non so cosa gli sia successo. So che una volta mentre lavoravo una donna anziana rimasta vedova mi disse che quando qualcuno ci lascia non sono poi i giorni vissuti con loro a mancarci di più, perché i giorni sono solo ore. Ciò di cui sentiamo la mancanza sono gli attimi, perché è negli attimi che risiede la felicità. Noi non lo sappiamo cos'è successo. Is that the burnout down to fade away? My, my, hey, 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 hey. I run a clue into the blank They give you these but you may pretend And once you go You can never come back When you run, and it's so bad Baby, my life Rock and roll, I'll never die There's more than fiction That meets the eye Hey, my life Oh, my life Oh, my life I'll never be I'll never be I'll never be To be the disease To be the time And once you go You can't wait without me When you run, and it's so bad The king is gone But he's not the guy This is the story of a time run He is fine to burn out There isn't too much But he is on the sky I'm not the guy I'm not the guy He is fine to burn out He is fine to burn out He is fine to burn out Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.